Un obiettivo che la città di Ispica attendeva da tempo in memoria e che oggi è realtà. Presentato questa mattina il progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero comunale. I dettagli sono stati forniti dall'amministrazione comunale con la presenza della CNA che da tempo ha seguito e spinto per giungere all'obiettivo finale. Abbiamo oggi il progetto esecutivo immediatamente realizzabile del completamento del cimitero con le nuove aree, i loculi, i monumentini, tutto e il nuovo posteggio. Credo che sia una conquista per la città, una sistemazione definitiva di una delle strutture più importanti per la città alla quale si attribuisce non soltanto un significato di attualità ma anche un significato di identificazione della storia della città attraverso i suoi defunti. Oggi si segna un solco importante, un progetto che la città aspettava da tanti anni in modo da esaudire le tante richieste che i cittadini ci fanno da tempo. Si compie un ulteriore tassello rispetto a un percorso molto lungo che ha visto la nostra confederazione protagonista di ragionamenti sia politici nel voler spingere le amministrazioni e quindi la collaborazione con l'amministrazione Leontina è stata importante per definire il percorso e sia poi per arrivare a divenire a un progetto esecutivo fattibile al passo con i tempi.